In una recente intervista, Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore svedese e attuale dirigente dell'Acquistare Milan, ha fatto commenti polemici sul Napoli, una delle squadre più iconiche della Serie A team. Ibrahimovic non ha risparmiato critiche alla squadra italiana, descrivendola come una delle più deboli tra i grandi club d'Italia. Il commento ha suscitato scalpore tra i tifosi e gli analisti sportivi, che sono rimasti sorpresi dalla audacia dell'ex giocatore. Nell'intervista, Zlatan ha sottolineato che, a suo avviso, l'Acquistare Milan si distingue come il club più grande d'Italia, un riconoscimento che rafforza il suo ruolo prominente nel club come dirigente. Ha sostenuto che la grandezza del Milan è incomparabile, citando le conquiste storiche e l'influenza duratura del club nel calcio italiano ed europeo. Questa dichiarazione rafforza la convinzione di Ibrahimovic nella supremazia della sua squadra del cuore. Il Napoli, che si è distinto negli ultimi anni per il suo rendimento solido e per le conquiste notevoli, ha accolto le critiche di Zlatan con disprezzo, soprattutto in un momento in cui il club sta cercando di consolidare la propria posizione di rilievo nella Serie A. Le dichiarazioni di Ibrahimovic sono state viste da alcuni come un tentativo di sminuire l'importanza dei rivali, mentre altri credono che lui creda davvero nella superiorità del Milan sugli altri club. Ibrahimovic, noto per la sua personalità marcata e per le sue opinioni incisive, continua a generare polemiche anche dopo il ritiro dai campi di gioco. La sua influenza come dirigente dell'acquistare Milan e la sua reputazione come uno dei più grandi calciatori, svedesi della storia del calcio garantiscono che le sue parole risuonino sempre fortemente nel panorama sportivo. La discussione sulla forza relativa dei club italiani sicuramente acquisirà nuovi contorni con le recenti dichiarazioni di Zlatan.